Hola amico! Ultimamente sto studiando le spazzole, allora ogni volta che incontro qualcuno che so che le suona vado a stalkerarlo. L'altro giorno era il Drummer Day a Novara e ho stalkerato Giacomo De Bonac, che era lì che spazzolava una cosa bellissima allo stand stile drama e allora sono andato e ho detto aspetta, fammelo vedere, ti spiace se ti filmo, fammelo lento! Eccolo qua! Piegacelo sezionato, mano sinistra vai! Allora, mano destra! One, two, three, four, all together again! Ovviamente lui me l'ha fatto sentire in questa versione super slow per farmelo capire, ma gli ho detto ma Giacomo non è niente che lo condividiamo, lo facciamo vedere, ma no, beh dai ti mando un videino, beccati sto solo! Giacomo non è niente che lo condividi! La zona Ecco, io quando vedo suonare uno così già godo, quindi Giacomo, complimenti, niente da dire, grazie per avermi passato qualche esercizietto, adesso mi rimetto a studiare che è meglio, anzi, che è meglio.